Buongiorno, noi studiamo la lezione numero 3 del congresso di Kabbalah di Vilnius, dal caos all'armonia. La lezione numero 3 è sul lavoro pratico nel gruppo. Si possono fare le domande durante la lezione. Per poter riuscire a raggiungere il creatore, noi dobbiamo essere in una forma opposta a lui, ossia in occultamento, perché nel raggiungimento spirituale sempre c'è equivalenza di forma. Noi da un lato dobbiamo essere nell'occultamento, ossia dobbiamo mantenere questo occultamento, e se non fosse per questo non saremo creature. Una creatura è qualcosa che è fuori dal creatore, è opposto al creatore, non è incluso assorbito da lui. Diciamo, l'inerte, vegetale, animale, è incluso, è sotto controllo del creatore, quindi non ha né male né bene né niente, semplicemente sono controllati da lui e sono assorbiti dai suoi comandamenti. Ossia dentro questa legge, la legge che il creatore ha stabilito, è una legge egoista, e dall'altro lato ci sono altre forme che ancora non conosciamo, che si chiamano angeli, che sono uguali all'inerte vegetale e animale, ossia mantengono questa legge della natura, la legge del creatore, però alle volte in d'azione, non c'è differenza tra ricezione e d'azione. Alle volte sono in opposizione, alle volte sono uniti con lui, pertanto l'uomo deve essere, la dama deve essere composto, che nella misura che cresce deve essere più grande del suo desiderio, e dall'altro lato anche deve riuscire a raggiungere l'equivalenza, ossia uguagliare il creatore con la sua intenzione, per poter dare, e nella misura che si avvicina al creatore del suo desiderio, è anche più opposto al creatore, però la sua intenzione si assomiglia di più al creatore, ed è così come l'uomo avanza, per poter capire questo sistema, la nostra abilità di arrivare ad uno status che è come il creatore, quando noi siamo composti dal desiderio di ricevere opposto, e nella stessa maniera questa intenzione che è simile al creatore, noi possiamo creare questo in maniera artificiale, non possiamo farlo in maniera artificiale, dobbiamo impararlo in maniera pratica, dalle nostre azioni, non c'è niente di più saggio di che esperienza, significa che dall'esperienza, dalle azioni, noi riceviamo questa saggezza, e uno non può ricevere saggezza senza fare certe azioni, quindi uno può capire la saggezza, pertanto così è come è tutto costruito, uno che pensa che può diventare saggio senza esperienza, questa è pura filosofia, noi vediamo come tutti si sbagliano giustamente su questo, e a parte di solo problemi, niente di buono a questa attitudine, da questa idea, e pertanto per arrivare a sperimentare, per arrivare a sperimentare, per sentire il creatore, per poterti avvicinare di più a lui, allora la domanda è come possiamo fare questo per poter avere, fare una azione prima del risultato, prima dello studio, prima della saggezza, prima del raggiungimento spirituale, ossia c'è una contraddizione qui in termini, e pertanto noi qui abbiamo un sistema, il sistema delle anime, o Adamarishon, che si è rotto apposta, si è stabilito in una forma speciale, in una forma di rottura, dentro un sistema generale, che si chiama il sistema dei mondi, e giustamente è così come noi esistiamo dentro, un sistema molto complesso da un lato, e da un altro lato, anche non è così complesso, così problematico, perché tutto è stato creato per noi, perché attraverso di queste esperienze, noi potessimo scoprire il kokma, la saggezza, e quindi con questa kokma, vediamo come noi con questa kokma possiamo relazionarci al creatore, noi non possiamo essere in un esperimento con il creatore, ma abbiamo un laboratorio che si chiama La Decina, e dentro La Decina noi generiamo tutte le azioni, e pertanto la regola qui è molto semplice, dall'amore alle persone all'amore al creatore, e tutto quello che noi dobbiamo rivelare rispetto al creatore, d'azione, d'eccezione, intenzione, in tutti i diversi gradi, noi prima dobbiamo farlo nella società, in forma pratica, e a causa di questo guadagneremo la saggezza, le emozioni, capire perché, cosa i kabbalisti ci hanno scritti, perché lo facciamo in decine, perché l'ordine di questo, e prenderemo tutto questo, e lo attribuiremo al creatore, e il creatore sarà rivelato come la continuazione delle nostre azioni pratiche nella società, e quindi noi già adesso inizieremo a relazionarci a causa della nostra esperienza, e quindi noi dobbiamo vedere il nostro lavoro nella Decina, questo lavoro pratico nella Decina, che è la cosa più importante, senza di questo non abbiamo possibilità alcuna per rivolgerci al creatore, non perché questo è organizzato in questa maniera per il sistema del mondo, per l'anima, ma semplicemente perché noi non possiamo relazionarci a Lui, Lui è in occultamento, fino a che non abbiamo questi Kelim nei nostri pensieri, nei nostri cuori, in potenziale, e questo potenziale deve essere adeguato, in equivalenza di forma con Lui, e noi riceviamo questi Kelim dall'ambiente solamente, e l'esecuzione è attraverso l'ambiente, e verso il creatore, e pertanto questo lavoro pratico nella Decina è il lavoro più importante, e questo lavoro realmente termina in questa azione, alla fine della correzione, il Gmarti Kun, che noi dobbiamo realizzare, e fino alla fine della correzione, tutte le azioni si fanno solamente nella società, e dalla società ci dirigiamo al creatore, e quindi quando noi realizziamo queste azioni dentro la società, all'inizio queste azioni, semplicemente non prendiamo in conto questa forza di superiore, che è lì, che non è lì, che determina qualcosa, che non determina qualcosa, noi realizziamo questa azione, questo esperimento, e lo facciamo in maniera molto limpida, il giudice ha solo quello che i suoi occhi possono percepire, e pertanto in questa maniera, in maniera graduale, gli occhi si apriranno, e iniziamo a fare azioni che sono più e più complesse, profonde, più alte, però, seguendo questo stesso principio, che il giudice ha solo quello che i suoi occhi può vedere, perché la decina è lì, giustamente, di fronte a noi, è nelle nostre mani, e pertanto noi possiamo connetterci attraverso di loro, e pertanto il raggiungimento spirituale è un raggiungimento completo dentro questi vasi, non è fantasia, ma al contrario, questo mondo è il mondo immaginario, sì, il mondo spirituale, di fatto, si rivela come un mondo molto più reale, molto più pratico, molto più concreto, bene, quindi adesso vediamo quello che i cabalistici stanno dicendo su di questo, e, bene, in riassunto, quello che noi vogliamo da questa lezione è estrarre una sensazione della grandezza della decina, perché senza questa tappa noi siamo incapaci di scoprire il creatore e arrivare allo scopo della creazione. Per favore, avanti.